Ma lui è l'assaggiatore? Così mi hanno detto, ma non lo so neanche bene io, se si fidano. Ma ce la faranno i nostri ragazzi a battere il record? Noi ci crediamo, dai, siamo ottimisti. Pensa che questi ragazzi riusciranno a battere il record del mondo? Per me è già importante che hanno avuto questa idea qua. Poi se quello che viene è bene, per me è importante quello che hanno fatto. È già un segnale per la baglia e per la torre di chiesa. Bravi! Grazie, grazie, grazie. Mi piaciuto? Fai in tutto male. Dobbiamo mica disquisire sul quoziente intellettivo del barista? No, no, no. Più o meno è come quello della scimmia che hanno mandato in orbita la NASA, quindi non ce la può fare. Si voleva fare una domanda, che domanda gli vuoi fare? Eh, se ce la può fare? La faccia, la faccia. Ovviamente batterebbe bene. A lui secondo me non ce la farà mai. Comunque se ce la fa io sono la persona più contenta di sto mondo, perché un bravo ragazzo se lo merita proprio. Grazie. Se lo merita proprio. Grazie, grazie Andrea. E c'è anche un altro discorso, che ci sono sempre piaciute le stesse ragazze, se ne siamo divise per così. Quindi io vorrei che avesse successo anche per questo. Può darsi che inizi a prendere dall'altra e le mie me le... Me le lasci per me. Allora, va bene, è meglio tagliare. No, no, vabbè, segui i metti. Vabbè, metti i metti. Ragazzi ce la farà Ale a battere il record, il mojito più grande. Senza, non ci sono dubbi. E se non ci arriviamo ce la facciamo un altro anno. Grazie Ronchesi, grazie. Grazie. Perché siamo con se vogliono una mano a bella per i tiri. Riusciranno i nostri amici a battere il record del mojito più grande del mondo? Che nostro amici? Alessandro e Massimo. Ah sì? Che lo so. 2.100 litri. 2.100 litri. Sono qui apposta. Dobbiamo documentare il Guinness del record del mojito più grande del mondo. Oh bravo. Molto tempo lì io voglio parlare. Ciao, ciao. Viva il mojito, vabbè. Viva gli sconsi. Riusciamo a battere il record del mojito più grande del mondo? Ciao, bui, alessandro. Un saluto, un saluto. Ma no, no, sono l'olipo. Ciao, bui. Ciao, bui. Quello lì. Ti firmo la liberatoria adesso. Italia 1. Del mojito più grande del mondo? Assolutamente sì. Direi che siete sulla buona strada. Con quel bicchierone. Ce la facciamo a battere il record? Ce la facciamo? La facciamo? A fare il record di 2.100 litri. 2.000? 2.100 litri di mojito. Di mojito? No, è un cocktail. Ah, cocktail. Ah, cocktail. Ha capito. Ce lo dobbiamo fare. Adesso, adesso, tra poco. Tra poco, bambino. E poi ci sarà la... Ci sarà la festa, eh? Sì, sì. Poi discoteca. Ma la prima volta. Ecco. Quando è che inizia il tutto? Quando è che inizia questo? Allora, a te, piantano di farti delle ciucche. Dai, un saluto per il record del mondo del mojito. Oh, guarda che prendo un pochino di lecce. Cosa stai facendo? Non è vero. No, no. Tu avrete 10 kg stamattina. Ti ho venuto a prendere lì. Altro giorno siamo andati insieme. C'erano 10 bar che nessuno ha preso niente. Da l'interno. Quindi... Vabbè, ribasso il tuo documentale. Scrivi un po'! Ora, ragazzi, un saluto per il mojito del mondo. Un saluto? Al mojito più grande del mondo. A chi? Alessandro e Massimo. Ciao, Alessandro e Massimo. Un saluto anche a Tito che non ho ancora preso niente. Sì, ci siamo preparati abbastanza per questo record. I miei ragazzi li ho addestrati abbastanza bene e penso che ce la faremo senza dubbio. Jimmy li ho annesti iniziare.